Match Michael e Ilaria, 40 anni in due, con la loro freschezza giovanile sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia per questo al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore il Caffè Revolution è in via Pomaranciotto ad Umberti, le zona Grattacielo Musica 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 Grazie a tutti. Un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti, benvenuti a questa nuova, nuovissima puntata di Giovani in vetrina. In questa puntata parliamo di uno speciale, siamo nella cornice del borgo Palasso Hotel di San Sepolcro per parlare naturalmente di un evento importante. Si tratta della ventottesima edizione del torneo Città di San Sepolcro, torneo giovanile, con tutti gli esponenti naturalmente della società Biturgenze che ha organizzato questa bellissima serata. Poi ci sono tante tante premiazioni, andremo a conoscere a partire da questo momento tutti i protagonisti. Mi piace molto il titolo, insomma, premio nazionale la Clessidra, tempo, volontà, capacità e successo. Dei bei aggettivi per descrivere questa serata altrettanto interessante, altrettanto importante e da gustare insieme al pubblico naturalmente di TRG. Quindi restate con noi perché da questo momento inizia la serata e quindi partiamo fin da subito con Matteo Marzella alla regia e naturalmente tutti i vari collaboratori per questa bella serata presso il borgo Palasso Hotel che si possa iniziare a partire da questo momento. Il borgo Palasso Hotel Siamo in compagnia di Sauro Giorni per questa bellissima serata presso il borgo Palasso Hotel. Vorrei che ci facessi un po' l'anteprima, poi andremo a conoscere naturalmente tutti i protagonisti di questo evento ormai consueto nel corso degli anni. Però Sauro, con te, visto che sei uno degli organizzatori principali di questo evento ormai di risonanza nazionale, vorrei che facessimo un attimo il punto della situazione. È una oramai serata abbastanza consolidata, siamo all'undicesima edizione, ci stiamo proponendo come premio nazionale perché crediamo che oramai il livello della serata e della manifestazione sia importante. Quindi credo che grazie agli ospiti che negli anni ci hanno onorato della loro presenza, credo che questo premio nazionale della Clessidra, serata che è concomitante con la presentazione ufficiale del torneo Città di Sansepolcro, però si sta oramai ponendo all'attenzione del mondo prevalentemente calcistico con importanza. Sauro, subito due battute sui ospiti, sui big di questa magnifica serata, i presenti potremmo dire dai giornalisti agli addetti ai lavori. La serata, dobbiamo dire che quest'anno in prima persona si è occupato insieme a noi dell'organizzazione anche Ugo Russo e quindi sicuramente ha voluto apportare delle novità, la novità che voglio dire è che ha inserito anche un personaggio nel mondo dello spettacolo quest'anno e daremo un riconoscimento per la brillante carriera che ha fatto a Don Bacchi, sicuramente uno dei più importanti parorieri per quanto riguarda le canzoni italiane. Per quanto riguarda il calcio invece abbiamo puntato a celebrare il ritorno di una società storica del calcio come la Spalle che ritorna in Serie A dopo 50 anni con una splendida avventura di semplici come mister che abbiamo incontrato nel nostro cammino come Sansepolcro, sia come calciatore prima che poi come tecnico, è arrivato alla Serie A quindi ai massimi traguardi, quindi crediamo che sia uno dei premi più importanti e perfetti su quello che è il nostro schema del premio La Clessidra. Poi naturalmente abbiamo il patron della SPAL Colombarini, una figura industriale importante che è il leader mondiale nella produzione di vetro resina tra le altre cose oltre alle altre varie attività. Poi abbiamo il presidente della SPAL che è con Colombarini dalla terza categoria nella squadra paesana poi è arrivato fino alla Serie A quindi dalla terza categoria alla Serie A. Poi abbiamo Giancarlo De Sisti, abbiamo Palanca, abbiamo Rino Foschi, abbiamo Perinetti che è naturalmente il direttore generale attualmente del Genova, Rino Foschi che sarà premiato come scopritore di talenti nella sua lunga carriera e poi avevamo il premio alla leva calcistica che per sopraggiunte e convocazioni nazionali non è presente però a dimostrazione che naturalmente avevamo visto correttamente sul giovane premiare sto parlando di Del Buono del Cesena che è naturalmente in nazionale quindi sarà Piangerelli responsabile del settore giovanile del Cesena a ritirare il premio per lui questa sera. Una bella serata ma vorrei sottolineare l'aspetto più importante al di là dei graditi ospiti che sono sia nel novelo degli invitati come gli altri amici che fanno parte del parterre di questa serata ma la cosa più bella è che in questa sera ci sono praticamente tutte le componenti del Vivi Alto Tevere San Sepolcro quindi ci sono ovviamente i massimi dirigenti, ci sono tutti gli allenatori dalla prima squadra al settore giovanile tutti i collaboratori, tutti gli addetti, tutti coloro che nel corso dell'anno prestano volontariamente il proprio servizio a favore del Vivi Alto Tevere San Sepolcro. Questa è la nostra serata di festa. Preciso e puntuale come sempre direi Sauro Giorni che ci ha spiegato, ha fatto una fotografia precisa di quello che avverrà in una serata come questa. Sauro vorrei tra l'altro alla luce anche del parterre importante poi andremo a conoscere tutti i vari protagonisti della serata però vorrei parlare con te anche dell'aspetto come dire del settore giovanile visto che siamo a Giovani in vetrina questo è il format di questa sera con questo speciale dedicato ovviamente alla manifestazione della Clessidra come anticipavi giustamente parliamo un attimo anche della manifestazione agonistica sportiva dedicata ai giovani. Questo che è il torneo Città di San Sepolcro giunto alla sua ventottesima edizione come ti dicevo è sicuramente uno dei tornei più longevi del centro Italia. Ci sono anche quest'anno squadre di rappresentanza delle quattro regioni quindi Toscana, Umbria, Romagna e Marche. Ci sono 163 squadre nelle varie categorie dalla Juniores ai piccoli amici e ci sono 35 società iscritte quindi questi sono i numeri del nostro torneo che richiede sicuramente un impegno importante. In due mesi si vanno a gestire oltre 300 partite con le concomitanze con tutti gli altri tornei e quant'altro poi immaginare il lavoro per portare avanti regolarmente una manifestazione del genere. Quindi il merito è dei collaboratori che abbiamo all'interno della segreteria che portano avanti questo lavoro veramente incredibile e tutti insieme credo che portiamo avanti questa manifestazione che è il nostro vanto e che è sicuramente da annoverare nel mondo del calcio giovanile una delle manifestazioni più importanti. Complimenti davvero a Sauro che è stato un'organizzazione esemplare potremmo dire di questa serata e a questo punto Giovanni in vetrina continua, rimanete con noi perché ci suoneranno tanti altri ospiti. 15 anni nella Roma, prima come responsabile del settore giovanile e poi come direttore sportivo, poi al Napoli con gli stessi incarichi e tanto per vincere il secondo scudetto con Maradona. Seguono il Palermo, la Juventus, ancora Palermo, Siena, Bari, oltre due brevi parentesi nella capitale a Torino, sponde Roma e Juventus, Palermo con cui vince il campionato di Serie B, il Venezia, storica promozione dalla Lega Pro alla Serie B e infine Genoa dove il suo arrivo si avverte subito perché la squadra Ligure, da piena zona retrocessione, ottiene un certo numero di vittorie che l'allontanano momentaneamente dal pericolo e ora si spera in un finale di stagione tranquillo. Insomma, un vero e proprio remida del calcio, dove va fa bene con la sua grandissima esperienza, tutti lo apprezzano e sono felici di poterlo inquadrare nel loro organigramma. Premio, verrebbe da dire, sempre più dirigente dell'anno, con la motivazione da oltre 40 anni, una soddisfazione dopo l'altra, la continuità ai massimi livelli a Giorgio Perinetti. Anche quando parli di Rino Foschi ti sembra di averlo visto e trovato da sempre nel mondo del pallone e in effetti questo valentissimo dirigente sportivo è iniziato nel lontano 1979 con il Messina per poi percorrere in lungo e largo tutta la nostra penisola tra squadre più o meno famose, in tutte però lasciando un'impronta indelebile di un grandissimo lavoro. Tra le società più importanti in cui si è mosso segnaliamo Napoli, Palermo, Verona, Genoa, Torino, Cesena con cui lavora tuttora e dove lui, forlivese di nascita, si sente finalmente a casa. Negli anni si è rivelato eccezionale ed indiscusso scopritore di talenti. Sono molti i giovani calciatori che ha lanciato seguendoli a lungo e che grazie proprio a questo sono riusciti a fare una radiosa carriera. Premio Come crescere i talenti a Rino Foschi Rivolgo il più sincero saluto a titolo personale e per conto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano agli organizzatori, alle autorità, agli atleti e a tutti i partecipanti alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale La Clessidra. Come ogni anno, nello storico e affascinante borgo di Sansepolcro si rinnova un appuntamento che è ormai tradizione e che con il suo parterre di assoluto rilievo riunisce i protagonisti del nostro calcio e dello sport in generale giornalisti, dirigenti, tecnici, campioni affermati e giovani promesse. L'evento infatti, giunto alla decima edizione si inquadra nell'ambito del torneo di calcio giovanile Città di Sansepolcro che festeggia a sua volta il ventottesimo anno di vita. Precedenti impegni istituzionali mi impediscono di trascorrere con voi questa piacevole serata ma colgo l'occasione per salutare l'intera cittadinanza biturgenze e rinnovare i miei complimenti all'intera organizzazione e in particolare a Ugo Russo per aver trasformato il premio, prima nelle vesti di presentatore e ora nel ruolo di direttore artistico della Kermessa in un appuntamento atteso e prestigioso che può vantare un invidiabile albodoro e che crea, edizione dopo edizione, interessanti tavoli di discussione sullo stato del nostro calcio. Altrettanto atteso è il torneo Città di Sansepolcro una manifestazione che garantisce ai nostri giovani talenti una vetrina unica e che, soprattutto, offre loro l'opportunità di crescere insieme ai propri coetani e di imparare che lo sport è fondato su valori imprescindibili da allenare ogni giorno. Rinnovando il mio apprezzamento per quanto, con impegno e passione, state portando avanti vi porgo i miei più cordiali saluti sportivi. Giovanni Malagò Un'altra casella fondamentale per le fortune della spalla è quella occupata dal presidente Mattioli diventato tale in pratica con l'avvento del patron Colombarini e in perfetta sintonia di intenti con quest'ultimo. Mattioli ha avuto un passato da onesto calciatore che però sapeva fare gol a foglia morta su punizione come gli aveva insegnato un certo Mariolino Corso e la sua forza maggiore è la grande intesa che ha con la tifoseria biancazzurra. Come faceva agli inizi del suo mandato non è infrequente vederlo alla fine di una partita vinta o comunque ben giocata dalla sua squadra raggiungere i fan schierati in curva ovest che lo chiamano Walter e cantare con loro. La sana provincia che prevale le cose che fanno riconciliare con questo calcio tanto bistrattato e alle prese con enormi problemi. Premio Presidente dell'Anno a Walter Mattioli Grazie a tutti i nostri spettatori Alessio Scarscelli direttore sportivo della Vivialto Tevere Sansepolcro per analizzare alcune novità potremmo dire di questo evento rispetto agli anni precedenti e vorrei che ce li analizzasse ed esplicasse direttamente lui in prima persona perché c'è una collaborazione con Radio Monte Carlo e con tutto mercato web quindi anche media importanti a livello nazionale sia radiofonico che naturalmente online parliamo di una testata giornalistica sicuramente autorevole come tutto mercato web. Partiamo da qui Alessio Faccio un attimo il punto della situazione anche su queste novità su queste new entry mi verrebbe da dire della serata di questa sera Sì come dico sempre io noi siamo partiti con una cosa molto quasi ristretta e ci siamo trovati tra le mani quello che poi è diventato un premio nazionale perché questa è la connotazione che abbiamo voluto dare a questa serata che è partita da un'idea 11 anni fa la mia di Maurizio Falcinelli dei Saurogiorni e che si è sviluppata negli anni arrivando un po' anche inaspettatamente devo essere sincero alla ribalta delle cronache un po' per fortuna, un po' per bravura nostra io porto sempre come esempio tre anni fa l'ospitata di Maurizio Sardi durante la settimana dove sembrava fosse destinato dall'Empoli a passare per l'anno successivo al Milan è andata al Napoli è andata probabilmente, lo dico, da milanista meglio da quest'anno abbiamo questa collaborazione con Radio Monte Carlo Sport che curerà la diretta della serata quindi ci saranno proprio dei collegamenti con i loro inviati hanno già avuto chiaramente un'esclusiva sugli ospiti come normale che sia quindi la serata sta andando in diretta sulle frequenze di Radio Monte Carlo Sport e di Radio Monte Carlo in alcuni notiziari sportivi parallelamente questa è già una collaborazione che c'è da tre anni con tutto il mercato web che fa la diretta testuale e fa servizi filmati sulla serata diciamo che il senso della serata rimane quello fondamentalmente ne parlava prima Sauro questa è una serata che facciamo anche un po' per noi perché comunque siamo una società dove fortunatamente ci sono tantissimi collaboratori che lo fanno con spirito con iniziativa diciamo totalmente di volontariato e quindi magari portare ospiti importanti qua a Sansepolcro e vedere anche negli attimi liberi della serata magari personaggi importanti che si fermano a fare due chiacchiere con i nostri collaboratori è la cosa che ci rende più orgogliosi perché fondamentalmente questo torneo ma tutta l'attività del Sansepolcro si regge sul lavoro volontario di tantissime persone siamo 60-70 persone e quindi un po' la serata è tagliata su misura anche per loro è chiaro che poi quando porti personaggi di questo spessore a livello mediatico c'è attenzione e anche la collaborazione con Massimo Boccucci o Gorusso ci aiuta ogni anno a portare un parterre di ospiti sempre più importante io a fine serata dico sempre a Sauro sono preoccupato perché l'anno prossimo sarà dura a fare meglio finora ce la stiamo facendo almeno questa serata che vada meglio degli anni precedenti perché poi dopo se usciamo e andiamo a parlare di calcio giocato come dicevamo prima a microfoni spenti forse qualche problemino in più ce l'abbiamo dico solo una cosa sarò curioso di vedere quali saranno gli ospiti l'anno prossimo considerando i big che ci sono questa sera ti riporto una battuta non dico chi l'ha fatta perché è una persona alla quale non sono particolarmente legato dal rapporto di simpatia però mi venne fatto in un dialetto dell'Alto Tevere l'anno scorso una battuta e mi disse l'anno prossimo per fare meglio dovrei portare almeno Gianni Infantino non ce l'abbiamo fatta non ti nascondo che un pensierino comunque ce l'ho fatto chiarissimo Alessio Scarcelli ecco benissimo insomma la serata è magica è molto interessante ci sono sicuramente ospiti che ora andremo ad intervistare per cercare di cogliere alcuni aspetti direi molto molto interessanti però c'è anche come dicevi in questa serata di delizia anche una piccola croce che riguarda un po' la prima squadra soprattutto la posizione di classifica perché dico questo? perché Sansepolcro ci ha sempre abituato ad un palcoscenico come quello della Serie D ma vissuto da protagonista comunque in posizioni sicuramente molto lontane rispetto a quelle nella quale si trova in questo momento la piazza di Sansepolcro quindi vorrei visto che sei un po' il direttore sportivo ci ha sempre messo la faccia sia nei momenti positivi che nei momenti magari più difficili vorrei che ci parlassi dell'attuale situazione di come la state vivendo a Sansepolcro insomma fanalino di coda in questo girone molto molto difficile classifica ancora corta però la situazione è questa insomma i numeri parlano chiaro che cosa ci dice Alessio? Con tutta sincerità insomma una cartolina sul momento della squadra Biturgenze ma la faccia ce l'ho messa anche quando non mi competeva quindi ce la metto adesso adesso ha maggior ragione è chiaro che la Serie D sta diventando soprattutto se analizziamo questo girone un campionato molto molto impegnativo noi viviamo un girone dove al di là delle 20 squadre al di là dei 5 cambi e sono due aspetti importanti perché chiaramente rose importanti riescono ad affrontare bene anche queste tra virgolette novità per noi chiaramente che dobbiamo sempre stare attenti anche Conti un po' ci penalizza è chiaro che anche il tasso tecnico del girone è più importante ed è chiaro che probabilmente anzi sicuramente di errori ne abbiamo fatti ne abbiamo fatti molti perché è inutile nascondersi la classifica la classifica parla chiaro io potrei stare qua a fare l'elenco di tutte le sfortune che ci sono capitate tra infortuni stadio e altre cose non lo faccio mi assumo io e chi lavora con me ci assumiamo quotidianamente la responsabilità di quello che sta succedendo e sono ancora convinto come il primo giorno di ritiro che la squadra che abbiamo allestito sia in grado di raggiungere l'obiettivo che è quello della salvezza è chiaro che ci siamo trovati domenica dopo domenica a fare conti con degli imprevisti importanti che sicuramente non ci potevamo permettere ma che non sono neanche dipesi dalla nostra volontà quindi quello che dobbiamo fare è affrontare domenica dopo domenica il campionato ritrovare perché in certi momenti non è stato facile mantenerla la compattezza la compattezza va trovata nello spogliatoio ma su quello non ci sono mai stati problemi e io metto la mano sul fuoco su tutti i miei giocatori dal primo all'ultimo io dico sempre posso aver sbagliato il giocatore ma non ho sbagliato l'uomo e su questo sono convinto ed è la riprova e la riprova ce l'ho continuamente tutte le settimane tutti i giorni perché io sto con la squadra quotidianamente e ho visto tutte le partite vedo gli allenamenti e su quello sono tranquillissimo un po' di competenza nell'ambiente deve essere sincera e mancata e lì dobbiamo essere bravi noi come società dare l'esempio e deve darci una mano chi ci sta intorno perché chiaramente viviamo in una piazza come dicevi tu abituata bene una piazza dove anche quando le cose vanno bene c'è sempre qualcosa da ridire a maggior ragione in questo momento chiedo ma dovrebbe essere scontato chiedo a chi ci sta intorno ai tifosi a tutti i collaboratori e a tutto il contesto cittadino di starci vicini devo dire da questo punto di vista domenica ci sono stati segnali positivi perché al di là della scomodità di giocare a città di castello comunque il nostro pubblico continua continua a seguirci vedo maggiore partecipazione rispetto a qualche domenica fa i ragazzi lo percepiscono la squadra lo percepisce siamo a Sansepolcro non siamo a Milano o a Roma anche il minimo accenno nell'ambiente è percepito dai ragazzi dentro il contesto del campo sportivo e fuori quindi io quello che chiedo e lo faccio dal tuo microfono a tutti e a tutti quelli che vogliono bene al Sansepolcro di stare vicino di stare vicino a questa squadra poi è chiaro alla fine parleranno i numeri si tira un rigo io sono abituato nella mia vita a fare i conti sempre alla fine mancano sette partite c'è un ipotetico play-out da giocare poi quando arriverà il momento e ci saranno tra virgolette le sentenze ci sarà anche spazio per magari dire tante cose che adesso è meglio non dire ma che prima o poi comunque verranno fuori per capire anche che magari un'annata che nasce male potrebbe sistemarsi ma poi c'è una serie di condizioni che possono essere più o meno indirizzate a far sì che si arrivi a una quadratura del cerchio e a una soluzione positiva è chiaro che se siamo in questa posizione di classifica qualcosina che non ha funzionato non solo in campo c'è ma di questo come dicevi ne riparleremo naturalmente nell'altro format testivo tra l'altro speciale calcio e mercato vorrei che Alessio tra l'altro con la sua sincerità e trasparenza a me piace molto insomma il discorso e il messaggio che ha lanciato anche la città di Sansepolcro Alessio Scarcelli come diceva giustamente ci ha sempre messo la faccia e di questo chiaramente lo ringraziamo anche noi di TRG vorrei concludere Alessio se sei d'accordo con un aspetto positivo con una bella notizia la classifica giovani di valore questo sì che sepolcro possiamo affermarlo sicuramente in maniera inequivocabile moralmente è positivissima sostanzialmente se non ci salviamo rimane i numeri e non rimane il contributo che per noi è importante perché parliamo di 25 mila euro che negli ultimi quattro anni abbiamo sempre ottenuto a parte l'anno della retrocessione con il ripescaggio è chiaro che noi non lo facciamo per i 25 mila euro parliamoci chiaro noi basiamo tutta la nostra attività sul settore giovanile sulla valorizzazione dei giovani mantenere la categoria serie D è fondamentale per dare la possibilità ai nostri ragazzi di avere una visibilità diversa da quella che potrebbero diversamente avere in altri contesti che sono sempre importanti ma non sono importanti come il campionato di serie D noi ogni domenica accreditiamo 7, 8, 10 osservatori e ripeto è il contesto ideale la serie D per far crescere i ragazzi siamo primi sul girone siamo primi a livello nazionale sarebbe la ciliegina sulla torta portare anche il risultato concreto oltre che la soddisfazione la soddisfazione sicuramente non ce la cava nessuno Alessio in bocca al lupo naturalmente buon lavoro e naturalmente che la serata continui naturalmente torneremo a parlare anche con Alessio Scarcelli nel corso dell'annata anche in estate per fare i bilanci speriamo positivi anche per il Sansepolcro buona visione buon proseguimento restate con noi piccolo messaggio pubblicitario poi torniamo con Giovanni in vetrina in questa bellissima serata presso il Borgo Palace Hotel restate con noi Michael Eilaria 40 anni in due con la loro freschezza giovanile sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia per questo al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore il Caffè Revolution è in via Pomaranciotto ad Umberti le zona Grattacielo in compagnia con il tecnico Marco Schenardi in questa serata torniamo in onda per parlare questa volta di prima squadra abbiamo parlato di giovani di settore giovanile di giovani di valore la classifica insomma che vede la squadra Biturgenze al comando a livello nazionale tra l'altro in tutti i nove gironi italiani però dobbiamo parlare anche di prima squadra e chi meglio di Marco Schenardi può commentare l'attuale andamento insomma Sansepolcro non è abituata a navigare in quest'ultima posizione Marco però è stato richiamato per dare una sterzata e portare il salvabile in questa piazza che cosa ci dici ad oggi insomma dopo che ti sei rimesso in pista ti sei rimesso in discussione qui a Sansepolcro ti dico perché è un'impresa difficile però sono tornato con grande voglia non considero questo richiamo un mandato per me è come tornare a casa una famiglia che avevo lasciato dieci anni fa ho ritrovato l'anno scorso e come in tutte le famiglie ci possono essere dei momenti difficili ma si superano e parlando appunto di giovani sento questa grande responsabilità di non disperdere questo grande patrimonio che il Sansepolcro ha costruito negli anni di un settore giovanile importante di valori importanti del settore giovanile perciò per me è un ripeto è quasi una missione salvare questa squadra ci sto mettendo tutto me stesso come credo ci stanno mettendo tutto il loro impegno tutte le persone che fanno parte di questa avventura anche se sappiamo tutti che è un'impresa non diciamo un'impresa però sicuramente è una situazione molto molto complicata però abbiamo le possibilità per saltarci fuori senti Marco quali sono state le differenze tra l'attuale situazione insomma quando ti sei rimesso in corsa che differenze che clima hai trovato e precedentemente insomma un come dire facciamo un attimo un'analisi sulle due fasi la fase Schenardi 1 e la fase Schenardi 2 che clima che ambiente hai trovato ma credo che per le analisi i giudizi possiamo aspettare alla fine dell'anno io credo che quando sono rientrato ho trovato molta disponibilità però l'ho trovata in maniera sincera non è una disponibilità dovuta solo a un proformo o al fatto che era l'ultima spiaggia ho trovato una città comunque molto convinta di potercela fare e l'ho sempre detto perché a differenza di tanti miei colleghi che si nascondono dietro la dichiarazione di facciata a volte vanno in sala stampa a commentare partite che meritavano di perdere commentando partite che hanno visto solo loro io ho sempre detto che questa è una squadra nettamente rinforzata rispetto a quella che ho lasciato io io credo che la squadra in questo momento abbia solo un problema che è quello della classifica che nel calcio conta molto io sono stato calciatore condiziona tantissimo e non ti permette magari di tirare fuori quelle qualità che hai io credo che in questo momento se siamo sepolcro abbiamo messo a disposizione una squadra da metà classifica che se fosse stata così all'inizio dell'anno sarebbe sicuramente in una situazione differente però non dobbiamo perdere mai di vista il fatto che se siamo ultimi non possiamo dare la colpa a nessun altro se non a noi stessi però l'ho detto una settimana fa ai ragazzi e lo dico ancora adesso se retrocederemo la colpa sarà la nostra non dovremmo cercare altri alibi perché in questo momento la squadra ha tutte le possibilità di poter centrare la salvezza ecco Marco proprio in virtù di questo visto che sei una persona schietta insomma che anche davanti alle telecamere dici le cose come come le pensi vorrei che ci facessi una fotografia della zona bassa della classifica di questo girone e vorrei anche che ci commentassi il livello di questo di questo girone D di serie D insomma anche rispetto magari all'anno scorso quali differenze ci sono state e che cosa è mancato magari rispetto all'annata precedente a questo Sansepolcro ma allora quello che è mancato sicuramente un po' di fortuna l'anno scorso l'abbiamo avuta nel momento cruciale del campionato incontrando in serie Torres, Città di Castello e Foligno che avevano grandi difficoltà e ci hanno permesso di fare 9 punti in un momento topico del campionato la fortuna perché quest'anno ci sono stati tolti tantissimi giocatori non per un breve tempo ma per tempi prolungati vedi parodi vedi valori vedi bassaia all'inizio vedi adesso mortare credo che questo nell'eco di un medio campionato pesi tantissimo per quanto riguarda la serie D sia il nostro giudone ma la serie D in generale intanto io credo che sia sempre poco rispettoso parlare di una serie D che è più scarsa rispetto agli altri anni invece io penso che sia nettamente più forte ma lo dimostra il fatto che tanti giocatori che facevano la Lega Pro che non trovano più spazio in Lega Pro perché è stato tolto un girone e sono finiti in serie D e credo che ci sia e poi rispetto a tanti anni fa ci sono tante piazze importanti insomma nel nostro girone Imolese Rimini dall'altra parte c'è Rieti ci sono piazze adesso il girone che non facciamo più noi insomma c'è Rieti Latina ci sono delle squadre veramente importanti perciò io credo che il livello sia alto sia molto competitivo e ci siano tante piazze che possono anche pescare da settore giovanili molto molto importanti senti Marco in conclusione insomma la tua tornata a Sansepolcro è un tentativo di salvataggio in extremis o in caso comunque sia che il Sansepolcro si salvi sia che il Sansepolcro non si salvi è un progetto dal quale ripartire e soprattutto che cosa vuol dire l'eccellenza per il Sansepolcro ora facciamo gli scongiuri del caso ovviamente però se si verificasse questa ipotesi che cosa significa per Sansepolcro dopo tantissimi anni di Serie D e se Schenardi comunque è legato comunque al progetto Sansepolcro indipendentemente dalla categoria se c'è un progetto bisogna chiedere alle società perché io faccio l'allenatore però la tua sensazione Marco le sensazioni del calcio contano poco contano i fatti io so che sono stato richiamato perché la situazione era drammatica e sono stato richiamato per cercare di provare l'impossibile io sono consapevole di questo non mi faccio aspettative non chiedo niente ma io credo che per un professionista come me centrale a salvezza sarebbe la soddisfazione più grossa poi quello che sarà il futuro non dipende solo da me ma non ci penso assolutamente in questo momento perché sarebbe buttare via energie l'eccellenza per Sansepolcro sarebbe una cosa che anche questa andrebbe chiesta a chi magari ha vissuto più anni Sansepolcro io posso dire che sicuramente non sarebbe un'onta perché dopo tanti anni e dopo tanti sacrifici fatti dai vari presidenti non ultimo il nostro sono cose che nel calcio possono succedere è ovvio quello che dicevamo prima sarebbe soprattutto dannosa per i nostri giovani perché non si giocherebbe più il campionato juniores nazionale i giovani perderebbero un po' di valore alcuni giovani probabilmente non accetterebbero di giocare nella categoria dell'eccellenza è ovvio che a cascata ci sarebbero delle ripercussioni però io credo che chi ha portato avanti il calcio in questi anni a Sansepolcro abbia poco da rimproverarsi perché in una congiuntura economica come quella che c'è adesso con le difficoltà che ci sono anche nel mondo del lavoro io credo che trovare impenditori come i nostri che mettono soldi nel calcio vadano solo elogiati io credo che la difficoltà del Sansepolcro di questi ultimi anni sia stato proprio il fatto che il livello della Serie D si è alzato vengono richiesti sempre più investimenti non solo di persone ma soprattutto economici e credo che il Sansepolcro fa bene avere la sua dimensione fa bene avere un suo progetto se poi questo progetto può continuare in Serie D saremo tutti molto più contenti se diversamente sarà eccellenza che il Sansepolcro non finirà andrà avanti ma io mi auguro fermamente che il Sansepolcro possa salvarsi dal tondo se sono ritornato non sono ritornato né per i soldi né per un motivo di rivincita ma perché credo nel mio lavoro e soprattutto credo che questa squadra abbia le possibilità di potercela fare In caso di salvezza in conclusione mister hai fatto un fioretto una promessa per te stesso più che altro più che per gli altri per la piazza sicuramente anzi se vuoi lanciare un messaggio ai tifosi alla piazza di Sansepolcro che ci segue numerosa e soprattutto se hai fatto un fioretto personale insomma in caso di salvezza No ma il fioretto me lo sono fatto quando sono stato richiamato cercando di provare ad avere un approccio soprattutto anche alla città alla gente che potesse portare a avere meno scronti ma più sostegno da parte della gente a questa squadra belli non ne dobbiamo fare perché credo che intanto la gente ci segue poi comunque anche nella critica la gente paga è giusto che faccia quello che ritiene più opportuno ripeto per me sarebbe importantissimo salvare questa squadra prima di tutto per una una soddisfazione professionale e poi perché credo che quando uno fa questo lavoro sentivo anche prima personaggi molto più importanti di me parlare però quello che ci deve accomunare è la passione io da questo punto di vista non mi sento né superiore ma sicuramente neanche inferiore a tanti altri ho una grandissima passione spero oltre alle qualità tecniche di riuscire a trasmetterla alla squadra e soprattutto che questo possa bastare per risollevare il Sansepolcro e per portarlo a una salvezza che io credo dopo tanti venici studiudini anche per il calcio che stiamo esprimendo ultimamente meriteremo senta due battute sulla serata e sul premio di questa sera ma io quando c'è un russo di mezzo ho la certezza che la serata è ottima perciò questa sera ci sono personaggi che hanno fatto la storia del calcio ci sono dei personaggi emergenti del calcio perciò è una serata bellissima certo detto rispetto tanta gente stiamo in una città bellissima perciò c'è tutto quello per far vivere una serata speciale siamo ancora work in progress la serata deve continuare andremo a cena qual è il momento più bello finora? ma guarda io quando mi trovo con persone del mio periodo e precedente pure mi trovo sempre a mio agio e sono veramente contento cioè rivedere picchio desisti per esempio per me è stato un tuffo al cuore un aneddoto a questo punto in esclusiva se è possibile per noi di TRG insomma che seguiamo molto da vicino abbiamo seguito questa serata un aneddoto suo personale insomma che si sente di ricordare in una serata come questa davvero molto bella ma guarda uno che ha giocato 20 anni a calcio e ha viste tante di aneddoti ce ne sarebbero migliaia e dovremmo stare qui quella che mi piace più ricordare è la vittoria del Catanzaro a Roma contro la Roma per 3 a 1 con 3 gol miei ma non soltanto perché io ho fatto 3 gol perché noi avevamo allenatore Carlo Mazzone che è un romano 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 proprio e ci teneva molto a questa partita Leonardo Semplici vincitore del premio di questa sera complimenti mister per l'allenatore potremmo dire del momento visti i risultati di questa annata ma anche degli ultimi anni un commento su questo premio e su questa serata intanto sono onorato di riceverlo perché è un premio importantissimo è una serata straordinaria che ancora deve concludersi sono contento che ti dica che sono l'allenatore del momento anche se non mi sento però insomma dimenti dai risultati che abbiamo fatto sabato affrontando la Juventus una grande squadra una squadra la migliore o tra le migliori a livello italiane a livello europeo sicuramente questo ci dà risalto però soprattutto ci deve dare convinzione per quello che è il nostro campionato ci deve dare seguito a quelle che sono state le prestazioni non solo di sabato e ad ottenere quei punti che ci dividano al nostro obiettivo cioè la salvezza in attesa della premiazione naturalmente della serata facciamo un po' work in progress il momento più bello finora naturalmente ci sono stati diversi come dire commenti e tra l'altro anche l'intervista in precedenza di questa bellissima serata sì tutti i grandi personaggi ognuno ha portato le sue esperienze di questo ne voglio fare tesoro sicuramente una bella serata bella organizzata e mi auguro un commento che conosce molto bene anche la piazza di Sansepolcro sull'andamento della prima squadra un po' anche se naturalmente segue anche se da lontano naturalmente dal palcoscenico importante della Serie A anche sul settore giovanile visto che si tratta comunque di una presentazione della città di Sansepolcro ho seguito la presentazione del torneo però seguo più la prima squadra seguo tutte le categorie dall'eccellenza che ho fatto fino alla Serie A cerco di guardare tutti i risultati delle squadre specialmente della mia terra e so che in questo momento le cose non vanno molto bene però insomma spero e mi auguro che Sansepolcro possa raggiungere quello che è l'obiettivo cioè la salvezza ecco tornando al mondo dei professionisti parlava delle differenze insomma che ci sono fra allenare in Serie A e in altre categorie come la catetteria se può ricordarci insomma fare una fotografia anche per noi di TRG Canale 11 ma le differenze sono diverse la qualità tecnica fisica cambia molto rispetto alla Serie B e quindi anche noi inizialmente abbiamo pagato un po' lo scotto di questa nuova realtà che abbiamo affrontato piano piano ci siamo calati sono arrivati dei giocatori che avevano già frequentato questo tipo di categoria hanno aiutato a crescere sotto l'aspetto sia tecnico che fisico ma soprattutto dell'esperienza e in questo momento sta portando a dei risultati importanti Che cosa si prova in conclusione mister a fermare una squadra come la Juventus visto che citava proprio la partita della settimana scorsa Ma piacere perché sicuramente era impensabile che l'aspetto potesse fermare dopo 12 vittorie una squadra fortissima è la Juventus però siamo stati bravi a scendere in campo la giusta mentalità mettendo in campo quelle sono le qualità dei miei giocatori la nostra organizzazione e soprattutto avendo limitato una squadra eccezionale come la Juventus a la Juventus a a la Juventus Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.